Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo format diciamo, più che altro perché vi aspettavate come al solito una reaction post partita qua su youtube Invece abbiamo deciso insieme ai ragazzi di Miran Inside che il post partita, visto che comunque grazie a voi è aumentato veramente tanto il supporto su Twitch Mi raccomando, link in descrizione per unirvi anche a voi su Twitch, abbiamo deciso di farlo in live insieme a voi con gli interventi di altri ragazzi di Miran Inside Quindi diciamo che questo qui è un nuovo format che è la mattina dopo della partita, sostanzialmente a mente fredda, si analizza un po', non tanto ovviamente perché per quello c'è il post partita su Twitch Fondamentalmente che partita è stata, quindi saranno video brevi sostanzialmente Che partita è stata ieri sera? Cosa si vuol dire? Che partita è stata? È stata una partita molto triste, sostanzialmente, ci hanno presi appallonate, dopo un minuto subiamo il gol Che errore, non errore, vabbè comunque dopo un minuto hai subito gol Eppure non sei riuscito a reagire se non dopo il venticinquesimo minuto Che tra l'altro al venticinquesimo nel lasso di tempo da gol subito al venticinquesimo minuto ci sono state Miracolo di Donna Roma su Immobile Correa che con un errore di Teo Hernandez che se l'è ributtata nella propria area ha tirato sopra la traversa Quindi ragazzi, ieri sera tutti noi tifosi rossoneri ci aspettavamo una prestazione perlomeno dignitosa Una lotta ci aspettavamo ieri sera E invece ci siamo ritrovati a fronteggiare una Lazio Che per carità non ha fatto male, però non è che abbia fatto chissà cosa C'è anche quello da dire, non è che la Lazio abbia fatto chissà cosa, per carità Ha giocato abbastanza bene, ma non è che ha fatto chissà che Il problema cos'è stato? Il problema siamo stati noi Perché dopo l'1-0 al primo minuto vai in bambola, non capisci più nulla per 20 minuti E rischi di prenderne altri due Le uniche occasioni che hai, cosa succede? Arrivi sotto porta e o fai il tocco in più O fai il passaggio che non devi fare per far calciare il tuo compagno dentro l'area piccola Che non ha senso Oppure tiri una mozzarella in bocca reina Cioè la fase offensiva ragazzi è da mani nei capelli Da parte nostra Non riusciamo a fare un tiro decente in porta La cosa che mi rammarica di più sono due delle fasi offensive Sono state l'occasione di Cialanoglu Saleemakers, bella palla dentro per lui Lui al posto che magari calciare di primo istinto col destro Ha dovuto Stopparla, rientrare col destro sul mancino Per far andare Aspettando i difensori Per far andare fuori tempo i difensori E poi calciare una mozzarella col mancino Quando palla che gli arriva lui poteva calciare La seconda che secondo me è la più grossa Anche se non voglio dare troppi colpi a lui Perché ieri sera Tra tutti E quello che mi è piaciuto Tra un po' di più Insieme a Saleemakers E Calabria È stato Manjukic L'occasione a fine primo tempo E Saleemakers ha dato una palla intelligentissima A Manjukic in area Al posto che dar la rasoterra tesa Gliel'ha data un pelo a palombella Mezza altezza E Manjukic da lì in torsione Poteva tirare di collo una saraccata in porta E tirava giù la porta Invece ha preferito appoggiarla E ovviamente Reina l'ha parata senza problemi Quindi ragazzi Ieri non c'era Non c'era la mentalità vincente Non c'era la mentalità di far male alla Lazio Non c'era niente Cioè Vuoi andare in Champions League Non funziona così Eravamo secondi A più Non mi ricordo quanti punti Ok Siamo quinti Siamo quinti Siamo quinti Non va bene Non va bene Perché ormai tu la Champions League Dopo quello che hai fatto vedere quest'anno La Champions League è un obiettivo che deve essere centrato E non mi interessa Anche perché noi tifosi ragazzi abbiamo aspettato fin troppo È il primo anno dove vedi concretamente Una luce Una luce Che è la Champions E adesso ti ritrovi il quinto Quindi ragazzi Ora Le ultime due cose Vi dico La prima è che Andiamo ad affrontare un calendario Come ben sapete Non facile Anzi È tutto in salita Il calendario che andremo ad affrontare Forse è il più difficile Tra quelle che sta lottando per la Champions Perché comunque Tralasciando Juventus e Atalanta Abbiamo Benevento Torino e Cagliari Queste tre squadre In questo preciso istante Sono terzultime a 31 punti Queste squadre qua Daranno via l'anima Per salvarsi Già sabato il Benevento lo farà Quindi Ragazzi O Non dico succede il miracolo Perché sappiamo come Perché se sappiamo giocare come sappiamo Benevento Cagliari Torino li batti Tu devi andare però Ora Ora Diventa imperativo vincere in casa Della Juve Devi andare allo stadium a vincere Ragazzi Vedremo cosa succederà Inoltre un'ultima cosa Che Mi ha dato molto fastidio Ieri sera È stato l'arbitraggio di È stato l'arbitraggio di Orsato Ovviamente Io non voglio attaccarmi All'arbitraggio Perché ieri sera Ce ne meritavamo Sette di gol Non voglio attaccarmi All'arbitraggio Semplicemente Come in altre partite Che ho visto in questa giornata Perché ci sono stati altri episodi Molto dubbi Ma come è successo in Europa League In Champions League Ad altre squadre Ad altre partite che guardavo Ad altre squadre di Serie A L'arbitraggio italiano Non va più bene Non so Commentate Commentate Fatemi sapere Più che altro Esempio stupido Il secondo gol Che la Lazio ci ha fatto Era da annullare Questo lo dico con certezza Perché stamattina Mi sono svegliato E ho Mi sono confrontato Con alcuni ragazzi E anche Leggendo varie testate Giornalistiche Dove ovviamente Confermano Che il gol di Correa Era da annullare Ma questo non toglie nulla E non mi voglio attaccare A questo Anche perché Il secondo gol ce lo meritavamo Il terzo gol subito pure E quindi Assolutamente Non voglio recriminare Nulla di quello Però solo per dire Che veramente Gli arbitri italiani Hanno veramente stufato Quindi niente ragazzi Questa qui è stata Una mia piccola riflessione Ed ora in avanti Troverete Le riflessioni La mattina dopo la partita Oggi pomeriggio Alle ore 14 Troverete sempre sul canale Milan Inside E sempre sul mio canale La reaction editata Di ieri sera E niente ragazzi Io non vi Non mi resta altro Che augurarvi Una buona giornata Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Passate da Twitch Che mi raccomando Per Milan Juventus Vi voglio vedere In tantissimi live E niente Ciao ragazzi